Allora fammi capire un pochettino che cosa dobbiamo fare Teo? Tu vuoi uscire con noi? Aspetta, aspetta un attimino Vuoi uscire? Non vuoi restare a casa? Ti lascio anche il televisore acceso Non va bene? Devi venire con noi? E dove vuoi andare Teo? Scusa Vuoi uscire? Vuoi uscire con noi? Ok, ok Ascolta Teo Ascolta Andiamo a comprare il pane Teo Ascolta, vieni qua mamma Teo, vieni qua Ascolta, andiamo a comere il pane Ma non deve venire con noi, deve restare qua E vuoi uscire sempre con noi? Non vuoi restare qui a casa? Teo, andiamo a prendere i panini, quelli buoni Sì Teo Sì, ok Io ho detto di no veramente Diciamo Antonio cosa dici, dai Teo, io ho detto di no che non devi venire, che devi restare qui Va bene? Hai qualche obiezione? Va bene dai Allora, batti 5 Batti 5 e ti porto ad uscire, dai Ok Adesso dammi la zampa Se sbaglio non ti porto ad uscire Dammi la zampa Ah, bravo Bravo Bravo, bravo Va bene dai Insieme dai Ciao Ciao da te Ciao Ciao